Recentemente più persone ci hanno segnalato un articolo riportato, tra l'altro anche dalla BBC, dove si parlava di un grosso scandalo nella Tokyo Medical University. È stata infatti scoperta l'alterazione dei test di ammissione dal 2011, affinché le studentesse fossero meno del 30% del totale. Perché, citiamo, gli uomini sono più adatti all'ambiente ospedaliero. Partiamo subito col dire che leggendo i giornali e guardando la TV, sembra che i media del Giappone non ne abbiano parlato così tanto come sui siti occidentali, dove sono state buttate nel calderone altre problematiche non inerenti a quest'articolo, giusto per attirare l'attenzione gridando allo scandalo. Parlando con alcuni amici giapponesi vi possiamo dire la loro reazione. A titolo informativo, tutti e tra gli amici che Seba ha intervistato sono usciti dalla migliore università del Giappone, ovvero la University of Tokyo, che è pubblica. Ora vi facciamo un riassunto. Come ha detto la BBC, quest'università ha le sue ragioni, e il problema è che non ci sono abbastanza dottori negli ospedali universitari. Le università americane fanno più o meno la stessa cosa per assicurarsi una percentuale di minoriti nelle loro università. Si dovrebbero trattare questi problemi uno alla volta e non mischiarli in un unico articolo. Chi l'ha redatto si mostra ignorante e il punto espresso dalla BBC è superficiale, mescolando il problema della discriminazione nei confronti delle donne con la politica di questa scuola che ricordiamo essere privata. Sono due problemi distinti che non devono essere uniti. Il primo è che ci sono diversi requisiti tra maschi e femmine. E il punto secondo non hanno rivelato che c'è questo duplice criterio di valutazione. Problematica menzionata solamente nei media giapponesi. Per quanto riguarda il primo punto, la scuola non è pubblica. Succede lo stesso in Occidente, con le minoranze nell'accettazione. E d'altronde non succede lo stesso da noi in Italia, quando una donna viene discriminata a un colloquio, non viene assunta perché, beh, un domani potrebbe fare figli, una famiglia. Chi ha voglia di pagargliela la maternità e la sostituzione mentre lei è in maternità? Anche nel nostro paese, purtroppo, avvengono le discriminazioni in fatto di sessi. È sempre successo e sfortunatamente ancora oggi tende a succedere. Riguardo al secondo punto, è vero, questo è un problema. Alcune ragazze hanno fallito l'esame proprio per questo criterio tenuto nascosto. Infine, l'ultimo dei tre amici di Seba, una ragazza, ha detto questo. I media stranieri tendono a reagire in modo eccessivo per la faccenda del femminismo, ma qui in Giappone viviamo la parità in modo diverso. Il fatto che sia stata proprio una ragazza a dire ciò ci ha fatto pensare, e quindi abbiamo deciso di parlare della posizione delle donne in Giappone. Parlando dell'uguaglianza sessuale in Italia, si può dire che in campo lavorativo si siano compiuti passi da gigante. In Giappone, a nostro avviso, c'è una concezione di diseguaglianza che risulta meno sessista di quella italiana. Come? C'è disuguaglianza ma è meno sessista? È complesso da spiegare, ma ci proveremo. Parlando di grosse aziende, l'impiegato è visto più come una risorsa, prima che un essere umano, una visione comune in Asia come in Europa. Quali sono però le differenze? Parliamo di un impiegato di sesso maschile. Appena assunto in una cultura lavorativa che tiene in gran conto l'esperienza maturata, specialmente nella stessa azienda, l'impiegato si andrà a trovare in un sistema di nonnismo ufficializzato. Le sue prime mansioni saranno umili, supporterai colleghi anziani, senpai, facendo un lungo lavoro di routine privo di vere responsabilità. Sarà a suo premura arrivare per primo, controllare che le varie carte siano al loro posto, controllerà che siano state firmate da chi di dovere, sistemerà le commissioni e inizierà le risposte delle varie corrispondenze. Quando i senpai avranno iniziato a lavorare, verrà chiamato infinite volte, dovrà letteralmente accorrere e sbrigare ogni richiesta in centesimi di secondo, ricevendo ogni sorta di noioso incomodo. Mentre il senpai curerà un affare, il novizio Kohai preparerà il contratto, cercherà le pratiche, invierà le dovute email, preconfezionato ovviamente. Quando l'affare è fatto, senpai firmerà ciò che ha da firmare, finito il turno lascerà l'ufficio. Il Kohai invece continuerà in estenuanti, straordinari, a volte fino a notte tarda, per compilare moduli relativi, trascrivere informazioni e altri ingrati, noiosi, lunghi compiti del genere. Se sopravvive per in media tre anni, cesserà di essere un Kohai e otterrà rispetto da comune impiegato. Tuttavia verrà trasferito in un'altra sede. Se l'azienda è locale, la cosa non sarà così pesante, ma se, come molte, l'azienda ha sede isparsi per tutto il paese, finirà in qualche altra città. Nella nuova sede non sarà più un Kohai, ma ai primi tempi ovviamente sarà comunque sotto addestramento, mentre familiarizza con l'ufficio e colleghi. Ogni tre anni verrà spedito ovunque, man mano salendo di grado, fino al pensionamento. Se l'azienda filiale è all'estero, potrebbe finire anche in una di queste. E se quest'uomo ha moglie e figli? Non è un problema dell'azienda. Non sono rari i casi di padri che vivono per cinque giorni la settimana in una città, da soli, mentre la moglie coi figli restano nella città natale. Se i figli sono almeno dell'età delle scuole medie, la famiglia potrebbe seguire il padre, ma in ogni caso spostare tutto ogni tre anni circa è dura, per cui la situazione del padre solitario altrove è tutt'altro che rara. Ma perché questi trasferimenti? Per esperienza e sicurezza. Diverse sedi potrebbero avere funzioni diverse, reparti speciali, clientele diverse. L'impiegato, vivendo in realtà differenti, svilupperà sia esperienza che adattabilità, divenendo di fatto più efficiente. Inoltre, lavorando solo per un periodo limitato in una data sede, non entrerà in possesso di segreti della suddetta. Questo renderà arduo, anche se non impossibile, la partecipazione dell'impiegato nello spionaggio industriale, per le altre aziende, la Yakuza o la polizia. Certo, l'impiegato può rifiutare il trasferimento, è un suo diritto, ma in Giappone ogni dinego, anche il più leale o giusto, è quasi un'offesa all'azienda. Lo straordinario è inevitabile, il trasferimento imposto. Nel caso di rifiuto, l'impiegato si vedrà precluso l'aumento di grado. E la donna? Una donna appena assunta è praticamente poco più di una cameriera. Porterà il caffè ai colleghi maschi, sistemerà i documenti in ordine, metterà a posto le scrivanie, smisterà le telefonate interne e porterà la corrispondenza. Ovviamente anche lei lavorerà le pratiche, ma solo quelle più semplici e sbrigative. Al finire del turno lavorativo, lascerà l'ufficio. Non sono previsti straordinari, o almeno non lunghi, per una donna. L'azienda si premura che essa possa rincasare prima che faccia buio, così da evitare la responsabilità di una donna sola per strada. Quando smetterà di essere considerata una co-high, passerà da cameriera a segretaria. Affiancherà i colleghi maschi esperti nelle mansioni, portando il suo aiuto come in Italia farebbe la segretaria di un avvocato o di un notaio. Difficilmente sarà comunque mandata in prima linea con i clienti esterni all'azienda. Questa virile battaglia è prerogativa maschile. Passati tre anni, smetterà di portare caffè e organizzerà una bella cena per i colleghi che verranno trasferiti. Lei invece non sarà trasferita. L'azienda può spedire in lungo e largo l'impiegato maschio, compreso lo spaventoso estero, ma non si azzarderebbe mai a far patire questa tortura ad una donna, a meno che essa stessa non richieda un trasferimento, in genere per seguire il marito o per tornare vicino ai genitori divenuti anziani. Non è previsto, infatti, che l'azienda mandi in giro un'indifesa donna. Man mano che la donna guadagna anni di servizio, sale anch'essa di grado. Se in azienda vi è un discreto numero di impiegate, potrebbe venire creata una sezione prettamente femminile, con gradi interni, di cui potrebbe, con impegno e pazienza, divenire capo sezione. La presenza di un capo femminile con subordinati maschi è un evento più unico che raro. Non è pensiero comune che una donna possa debba comandare un uomo, ma per via del percorso lavorativo l'uomo maturerà maggiore competenza. Ci sono donne che diventano leader o quantomeno seguono una scesa paritaria a quella maschile? Sì, ma a differenza dell'Italia, in Giappone il concetto di scelta e conseguenza hanno ancora un valore. Ma come fa quindi una donna a superare questo sessismo in campo lavorativo? Semplicemente sceglie. Sceglie di non essere una donna. Questa scelta le darà la possibilità di salire di rango fino a diventare presidente, con gli stessi tempi maschili e le stesse richieste. Una rinomata azienda di interni, per esempio, recentemente, ha avuto un cambio di vertice votato dal direttivo che ha appoggiato una donna a scapito di un uomo. Ella non porterà caffè, non farà fotocopie, lavorerà fino a tardanotte, sbrigherà pratiche lunghe, si spezzerà la schiena portando pacchi di scartoffie, verrà spedita ogni tre anni in giro per il paese o il mondo e così via, proprio come il collega maschio. Ah, e ci si aspetta, visto che ha dichiarato di non aver bisogno di un trattamento diverso da quello maschile che non richiede l'aspettativa per la gravidanza, farà una più possibile lunga pausa per la malattia o userà i giorni di ferie. È giusto? È sbagliato? È paritario? Per i giapponesi è un sistema perfetto. In genere le donne optano per il trattamento leggero, ma sapere di poter scegliere le rassicura. Ogni paese ha le sue tradizioni e il suo modo di pensare. Sarebbe bello se in tutto il mondo prevaresse solo la meritocrazia e l'uguaglianza. Purtroppo non sempre è così. Quindi a tutti quelli che gridano il Giappone maschilista, razzista, disumano o peggio potrebbero riversare questa loro rabbia nel cercare di cambiare le cose nel nostro paese prima di sparare sentenze su un altro popolo. Perché, come abbiamo già detto, anche nel nostro paese purtroppo si verificano ogni giorno episodi di discriminazione. E probabilmente quelli che si indignano dopo aver letto questa notizia sono i primi a compiere discriminazioni sessiste. alla prossima Grazie a tutti.